Musica Allora, sono Natale Giaimo, segretario provinciale UGL Autoferro Trampieri Sono qua oggi per questo importante convegno sulla situazione delle ferrovie della Calabria nel Reventino Siamo qua soprattutto per chiedere ai responsabili aziendali cosa stanno facendo E visto che a nostra conoscenza che è attualmente sulla galleria incriminata Quella che ci costinge da oltre un mese ad un trasbordo e un servizio limitato per i pendolari della zona Si sta facendo solo attività di monitoraggio Vorremmo sapere cosa ha intenzione esattamente di fare i ferrovie della Calabria Per il ripristino di questa galleria Perché purtroppo, stante la situazione attuale, stante quello che non trapela dall'azienda rispetto a questa situazione E' forte la paura per i cittadini Che questo sia il prologo della perdita di ulteriori 25 km di linea ferrata di questa azienda E quindi l'esclusione di questo territorio che già lamenta altre carenze infrastrutturali gravi Parliamo della famigerata strada che non c'è Nel trasporto E oggi non ci vorremmo accontentare delle promesse che sicuramente il management di Ferrovie della Calabria farà Ma vorremmo degli impegni concreti Perché con le promesse ormai ne sono pieni i libri Ma la pancia purtroppo si nutre di fatti concreti E i fatti concreti sono appunto la riapertura in sicurezza di questa tratta Grazie a tutti